E noi vediamo ora con Giovanni Battista Brunori le iniziative in programma oggi per il giorno della memoria. Mostre, concerti, convegni, visite guidate nelle sinagoge e nei luoghi ebraici. Sono tante le iniziative anche quest'anno in occasione dell'anniversario della liberazione di Auschwitz da parte delle truppe sovietiche, avvenuta il 27 gennaio 1945. A cominciare dalla cerimonia al Quirinale con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la memoria dei 6 milioni di innocenti deportati, torturati e uccisi dalla barbarie nazista viene rinnovata nelle grandi città come nei piccoli centri. Dalla mostra che verrà inaugurata alla Fondazione Museo della Shoah di Roma alla Due Giorni, organizzata a Milano al Memoriale della Shoah, alla cerimonia al Binario 16 a Firenze per commemorare le centinaia di ebrei deportati e uccisi durante il nazifascismo. Momenti di riflessione si terranno anche a Venezia, Torino, Genova, Napoli e in altre città. La data del 27 gennaio è stata scelta dall'ONU per onorare le vittime, per ricordare i giusti che rischiarono o persero la vita per salvare i perseguitati. Ricordando il delirante progetto di Hitler di cancellare il popolo ebraico, il Presidente israeliano Herzog al Parlamento europeo ha detto che l'umanità non sarebbe ciò che è senza l'Europa e l'Europa non sarebbe ciò che è senza gli ebrei, di cui ha ricordato l'apporto nei campi della cultura, della filosofia o della scienza.